Su Fedez, influencer, cantautore che sta giocando con la politica, perché forse andrà in politica, ma perché le chiedo una domanda su Fedez? Perché siccome lei è uno dei più grandi esperti della rete di internet, ora, intanto sarebbe una buona notizia, Fedez in politica, e è automatico che i follower si trasformino in elettori? Guardi, i tassi di conversione, per quello che si sa, cioè per le esperienze concrete che si sono avute, i tassi di conversione dei like in voti sono meno dell'1%, quindi diciamo che le probabilità di successo sono molto basse. Le probabilità di successo sono molto basse.